Finale d'estate al lavoro. Abbiamo chiesto ai cittadini stranieri di Brescia come trascorreranno il finale di quest'estate 2012. Alcuni a casa per le aziende chiuse, altri invece saranno al lavoro. Sono un comasciante. A Brescia perché? Per ottenere qualche documento da comune. E quindi quest'estate lavori? Sì, sì. Se purtroppo è così. E niente vacanze, lavoro anche quest'estate? Sì, poco. Che lavoro fa? Polizia. E che lavoro fai tu qui a Brescia? Badante. Sì. E quindi lavori quest'estate? Sì, adesso signore ospitale, malato. Mi abito qui. Cosa fa di lavoro? Lavoro travaliato, saldatore. Adesso 20 giorni di ferie. 20 giorni di ferie? E resti sempre qua. Ah, quindi non si va in giro, si sta in città. Non manca soldi. Niente spiagge assolate o lunghe gite in montagna e pochi giorni di ferie si passano al caldo cittadino. Mancano i soldi certo, ma per molti manca anche la volontà. Io lavorando a Ghedi. Quindi adesso l'azienda è chiusa? Adesso 20 agosto comincia. Vai in ferie via o resti in città? In città. Io non vado perché io sono musulmano e faccio pregare e anche fare Ramadan. Quella delle ferie a tutti i costi sembra proprio soltanto una mania tutta italiana.